Bentornati ragazzoli con il vostro amice su Yu-Gi-Oh! Millennium 2 e oggi siamo al sol boss stage del boss del boss dei Yu-Gi-Oh! 5 days iniziamoci di strong anche se spero di non dover fare anche un altro episodio di vincita allora un po' temuto ma PUNIO! partiamo già svantaggiati cazzo eh ti pare io ah ragazzoli dai spero in belle carte che cazzo ha fatto non voglio ste carte qua eh questa qua si quindi potremmo fare una roba in sto gel così e... beh 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 così si tanto sa che hai una carta trap lì sotto e mi distruggerai sicuramente il mostro quindi facciamo così intanto e proviamo ad attaccarlo e... e proviamo ad attaccarlo e... ok end phase dai sacro di figo è un mostro fai le tue evocazioni singolo di merda beh bravo guarda un... niente strano mmm ok mettiamo giù il golem qua battle phase proviamo ok una andata mmm nooo nooo no ma scusate un attimo quindi quella la può ogni volta attivarla attivarla che cazzata almeno ok da 3 mmm eh ti pareva dai cosa fai? cosa evochi? evviva ok ok ti attivo l'effetto dovrebbe non dovrebbe avere altri effetti lui perchè mi annulla l'effetto giusto? benissimo ok campo libero eeeh vediamo mettiamo giù questo intanto questa qua in difesa e attacchiamo prima con lui ah ok non attivo eh ma forse intelligente me l'attivo con questa vediamo eh immaginavo proprio vabbè intanto stiamo mezzo vincendo e fin qua mmm che cazzo ne avevo con altro adesso vabbè ah per fortuna che abbiamo un'altra carta trappola madonna mia speriamo bene speriamo bene ah mi sono salvato un'altra volta mmm ok questa qua è buona mettiamo giù anche lei allora ok qui per forza cosa posso fare? cosa posso fare? eh facciamo così quindi attacchiamo prima con lui e l'altro ci usa la carta trappola scommettiamo eccola la è buona quella carta lì cazzo finchè l'altro ha sempre un mostro e basta in attacco è molto buona no quello si un altro mostro madonna mia sicuramente adesso ha niente? strano chi è o chi? 2003 ok viene il sincrono evocato e ci vuole andare a parla di tutti e due ok va bene dai una bella eh forse questo ma mi basta vediamo milleotto milleotto attiviamo l'effetto e basta allora facciamo così la ok end phase vediamo cosa fa vediamo cosa fa ok non fa niente va bene vediamo ancora l'effetto facciamo così e fate phase e lui attivarà la carta ok end phase vediamo se riesco a tirare avanti finchè non mi capita qualcosa per distruggere il mostro direttamente un altro mostro wow cazzo non so se lasciarglielo lì per adesso bisogna vedere quanto ha di attacco vediamo eh eh ma per adesso no ok quindi lui ha attaccato st'altro di là no cazzo avevo mica considerato strobo però eh sì quindi facciamo così intanto e distruggiamo quella a posto adesso direi di fare una roba di questo genere e bloccare lui poi facciamo così e attacchiamo st'altro la ok è a metà life point dai possiamo farcela sul primo turno uff uff che è successo durante la battle phase i turni in cui hai avvocato in momento in questa gara per le doppiare il suo attacco originale fino a la battle phase sta un po' considerando quello che potrei fare no ok facciamo no ok lui mi attacca potrei fare così intanto e e sacrifichiamo questo mille punti di danno diretti ok lui mi attacca direttamente e anche st'altro no ok bene ehm adesso posso provare a fare una roba di sto genere e attiviamo l'effetto ok siamo senza difese però abbiamo il cilindro magico quello si ok vabbè bene meglio così drago armato da dio proprio proviamo ad attaccarlo e vediamo subito ok quella carta non poteva essere distrutta mostro di ok mi pare di aver capito una roba del genere intanto noi facciamo aumentare il livello ok poi evochiamo anche lui evochiamo anche lui andiamo di attacco vai e poi cazzarola ragazzuoli 400 eh life point e basta mi mancano per il primo turno cioè per il primo duello e speriamo anche nel secondo perché perdere secondo dopo c'è una frustrazione nel terzo ve lo posso assicurare allora facciamo direttamente così proprio per vedere se riusciamo ok ok e non può fare altro una carta in mano eccetera ok la prima è andata vediamo se riusciamo anche subito sulla seconda proprio per cavalciare la via di torno e poi ritorniamo alla tranquillità nel nel yugioh xis per i primi quattro livelli dai su possiamo farci spalle belle carte all'inizio cazzo ho detto dai che mi è fuori subito tutto xodia mh mh quanta roba ha fatto ok ho capito avevo già un mostro e un singolo 2008 è anche potente questo Quindi direi Di mettere giù Questa intanto Questa E basta per ora Facciamo così Mi sgranchisco un po' Attiviamo No per adesso no ragazzo Voglio vedere un attimo cosa fa Ok Sì adesso Facciamo così E glielo mettiamo da qui Da Adesso benissimo Proprio speravo che mi attaccassi con lui E l'altro A beh ci attacca direttamente a me Ok Tocca a me Facciamo Questo qua 2006 Quindi mettiamo giù intanto Andreo di Alexandrite Poi questa E attacchiamo la carta L'ultima che ha Ok a posto Che avvocato Adesso nel prossimo turno si becca un bel po' di life points ragazzoni Eccolo Eccolo 2008 E Solo nella mia Ok ok Vabbè Intanto comunque è già a metà Quasi No speravo Vabbè 2600 No Ah Siamo messi male allora Cosa possiamo fare Ok È già un po' meglio La facciamo così E così intanto No cazzo Ok ok Vabbè Ho capito È end phase per ora Aspettiamo un po' Ah ah Doversale? No Non voglio Per adesso Ok 800 punti Ora Attiviamo l'effetto di Forza riflessa È andata bene così Ok Faccio così intanto Speriamo bene Cazzo ce l'aveva anche lui E niente End phase Cosa possiamo fare Questo qua Guarda questa parte È mandata dal cimitero Poi ok No un altro No un altro No un altro Ok boh Benissimo Quindi Facciamo così Poi facciamo così Ok Decidiamo un po' Chi attaccare Nel turno c'è Ok Viene mandata al cimitero Per la singola Ok Io direi sinceramente Per adesso Oh no Non posso attaccare quello Perché? Perché non posso attaccare quello? Vabbè farò così Non so 1550 ragazzoni Ok 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 Ora Lo so che potrei aver evocato Il drago sputa a fuoco Però Sto provando a considerare Che Un attimo Quindi Questo qua posso? No vero? Sì Ah sì ok posso Se lui Ci attacca Exodia Dopo Lascia la carta In posizione Di attacco Quindi noi possiamo Cercare di Attaccarlo E infliggergli anche Il life point Ok Così va bene Facciamo Così Con questo Intanto Gli togliamo La differenza E E E niente Aspettiamo Nel prossimo turno Se tutto va Come penso Spero Allora ci siamo riusciti Vediamo End phase Ok Facciamo così Ora Benissimo Abbiamo Un'altra carta Che ci permette Di vincere Facciamo così Speriamo Che Venga fuori Due teste Dal suo effetto Dai No No Ok Bisogna aspettare Il prossimo turno Ancora le azioni Quindi intanto Gli attacchiamo Le carte Ok End phase Dai Abbiamo vinto In teoria Si A meno che Non abbia forza Riflessa Da sotto Allora Andiamo Con Ragionamento Attiviamo L'effetto Carta Carta Trappola Dai Due teste Una Una Dai Oh Benissimo Ok E in teoria Abbiamo vinto Le cazzuoli Au Eccoci Vittoria Grandissimi Sono contento Che abbiamo vinto Nei primi due Due duelli Siamo a posto Ricetta Da deco Ok Ok Contrato No Exodia Necro Non l'ho messo Dentro Sugio Zexal Nel primo Avremo Casual Francis Me lo ricordo Sto qua Cazzo Comunque Se il duello Di oggi Vi è piaciuto Restate tanti Pollizioni Su Commentate Condividete Strenamente Fate sempre Che caso Che voi Ciao A tutti Alla prossima Che iniziamo La nuova Saga Saga